Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Paranormal Detectives, gioco della Lucky Duck Games, portato in Italia da Craneo Creations, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Grazie ragazzi, è sempre un grandissimo piacere e un onore collaborare con voi. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Paranormal Detectives, come riporta la scatola, da 2 a 6 giocatori, età dai 12 anni in su, azzeccatissima, e della durata di 45 minuti. È un gioco di investigazione e deduzione che ricorda da vicino molto anche Cluedo, se vogliamo prendere un gioco del passato, perché voi sarete degli investigatori dei medium e uno di voi, un giocatore sempre, uno per forza, cioè una modalità cooperativa, ma la figura del fantasma ci deve sempre essere, dovrà appunto vestire i panni della vittima e del fantasma, che cercherà di mettersi in contatto con voi per riuscire a farvi capire cosa è successo. E come abbiamo già visto in un altro titolo, se vi ricordate in passato, Mysterium, il gioco si vince di squadra nel cooperativo, o quando giocate come medium si vince, cioè siete dei medium in competizione, e quindi vince il medium che riesce a risolvere il caso. E il fantasma vince la partita se è più un ruolo da dungeon master in Paranormal Detectives, però anche lui può vincere nel caso riesca a farvi realmente capire come è morto. Quindi alla Cluedo, perché vedete Cluedo, dovete capire chi è stato a ucciderlo, qual è l'arma del delitto, qual è il movente, la stanza dove è morto, insomma, il frangente, dovete capire tutto quanto ricostruendo un puzzle per capire come è morto sto povero disgraziato. E il gioco è molto interessante perché, oltre a tutte le missioni che ci sono dentro, perché ci sono delle carte che vi dicono, ovviamente il fantasma deve leggere per sapere cosa è successo, non se lo può inventare, c'è anche un'app scaricabile gratuitamente dall'App Store, dove troverete all'interno tutte quante altre missioni che potete giocare ed è sempre in costante aggiornamento. Quindi comunque è una figata di gioco disumano e questo, come dico sempre, effetto di exit, è il classico gioco che dove portate portate farete divertire. Magari per una nottata di Halloween o anche per una serata normale fra amici. Vi faccio un pochino vedere come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, come vedete, abbastanza grande, non molto spessa anche perché il contenuto, per fare un gioco del genere non c'è bisogno di buttarci miniature e chissà quant'altro, però veramente molto interessante. Vedete tutti quanti i medium che potete usare nel gioco e lo spettro, che è un altro giocatore che praticamente dovrete risolvere il caso appunto legato all'omicidio. Apriamo il regolamento del gioco che è veramente sinteticissimo, veloce. Vedete tutte quante le componenti che sono poi la tavola Ouija, l'elenco delle domande per quante ne avete indovinate, che andrete a segnare qui il fantasma e vi dirà che ne so il giocatore A, ne indovinate tre e quindi qui accanto scriverete tre. Poi tutti quanti i pennarelli ovviamente per scrivere sulle schede, le carte che potete utilizzare, le schede dei personaggi e il regolamento, ragazzi. E' veramente semplicissimo. Abbiamo qua giù sotto le plancettine, perché come in Mysterium, che questo gioco lo ricorda molto, si gioca veramente, ovviamente coperti, quindi non dovete nemmeno far vedere le carte che avete in mano agli altri investigatori, perché ripeto, ce l'ha una variante cooperativa. Ma nel gioco base ognuno tira l'acqua al suo mulino. Abbiamo poi la tavola Ouija, con, vedete, gruppi di tre lettere, dove il fantasma vi potrà indirizzare, al solito usando le carte giuste, perché qui nessuno può fare quello che vuole se non gioca la giusta carta, e di qua una specie di rilevatore di intensità ectoplasmica, anche questa volta con cui potrete entrare in contatto col fantasma. Mentre qua giù c'è la sagoma del fantasma, scusate, del morto, del deceduto, dove dovrete mettere sopra, all'inizio, col setup della missione, dei punti ferita per farvi capire dove sono le ferite, che ne so se qui vuol dire che assomiglio ha una ferita alla mano, qui magari alla gola e qui al ventre. Però quello ve lo dirà sempre il setup iniziale. E poi abbiamo un po' di così, le tifo al solito, vabbè, bustine protettive, che ce le mettono sempre, delle corde, che servono al fantasma, perché cercare di mettersi in contatto, dei pennarelli, eccoli qua giù, carte, che sono le carte, come vi ho detto, avventura, ce ne sono uno sbot all'interno, ma tante altre le potete direttamente scaricare dall'app, quindi giocherete, secondo me, per settimane e settimane. Poi abbiamo tutte quante le carte, i mazzi di carte, e tutto il resto della componentistica, che sono praticamente questi qui, sono i triangolini da muovere sulla tavola Ouija per il fantasma, le ferite che vi dicevo, e questo qui è una specie di segnapunti. Più che segnapunti, segna domande esatte. Le andete a segnare qui col pennarello per quello che vi dirà appunto il fantasma. Il funzionamento del gioco è molto semplice alla fin fine. Siamo un gruppo di detective, ognuno con la sua scheda, abbiamo diversi macchinari, come ad esempio, carte interazioni, scheda del personaggio, ovviamente tutto quanto dell'investigatore che avete scelto, pennarello per segnare ovviamente le cose che andrete a scoprire, ed è molto bellina la meccanica, perché voi dovrete andare a fare delle domande al fantasma, un po' nello stile, come vi ho detto, di Cluedo. E il fantasma non potrà mai parlarvi direttamente, non potrà mai darvi una risposta concreta e precisa, a volte non potrà nemmeno dirvi sì o no, ma dovrà sempre cercare di farvi capire tramite le carte che anche lui ha, perché gli investigatori hanno delle loro carte. Il fantasma ha un mazzo di sue carte, e quelle carte lì vanno, diciamo, cercate di incastrare e combinare per capire cosa è successo. Ad esempio, ogni investigatore ha la possibilità di provare due strade, di dare due soluzioni. La prima, il fantasma, gli dirà quante cose ha indovinato, non l'elenco, basta soltanto, cioè non la successione come sommesse l'ordine, gli basterà dire quante le ha indovinate, che ne so, ne ha indovinate tre, magari te ne dette cinque, devi cercare te di capire di queste cinque, quale tre fossero giuste. Piano piano inizia a montare. La seconda volta che dai la soluzione, o la dai giusta, o sei fuori dai giochi, perché ovviamente non sei riuscito a risolvere il caso, e prima di dare la soluzione finale ci devi pensare un attimino. Ed è bellino perché ci sono delle carte interazione, le carte del fantasma, cercherà sempre di mettere in un certo modo, per cercare di evidenziare magari un'immagine sulla scheda, sul disegno, scusate, della carta, che vi cerchi di indirizzare verso una direzione. Che ne so, scavolo, se in una figura c'è un cavaliere e un castello, magari metto una carta a coprire il castello, e vi evidenzia soltanto il cavaliere. Come stare a dire? Non guardare il castello, c'è il cavaliere, cerca di girare intorno alla figura del cavaliere per investigare, per dirvene una. Mentre invece le carte degli investigatori potranno essere carte domanda, faccio una domanda allo spettro, oppure un'altra molto 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 bellina, che l'ho apprezzata da morire, è quella del contatto fisico, che c'è anche la regola per cambiarlo, nel caso c'è qualcuno che non vuole contatto fisico dal vivo, comunque quella del contatto fisico, che fa una domanda sull'oggetto, che ne so, qual è l'oggetto che ti ha ucciso, l'arma che ti ha ucciso, e lo spettro, il giocatore che fa lo spettro, si dovrà mettere alle spalle del giocatore che ha fatto la domanda, e con l'indice disegnaglielo sulla schiena. In nessun modo lo spettro potrà mai parlare, non si potrà mai dire, è stato il coltello, mi hanno ucciso nella camera da letto, no, quello non lo potrà mai dire, però comunque cercherà sempre di indirizzarti verso quella direzione lì, ed è molto divertente, perché ve l'ho detto, c'è la tavola spiritica, ad esempio la tavola Ouija, dove anche il fantasma cercherà di muovere, per farvi capire le lettere, cosa è successo, è molto bellino, però quello che può fare il fantasma, lo decidete voi, perché se voi giocate una carta, ve l'ho detto, del tocco alla schiena, dove lui vi disegna l'arma del delitto, soltanto a quello gli potete domandare, e poi le dovete fare domande dirette, non potete usare una carta, per cercare di farlo parlare, se nella descrizione di quella carta, c'è scritto che il fantasma non parla, quindi è molto carino, ed è un gioco, sia di squadra, perché c'è la variante competitiva, sia competitivo, perché qui ognuno gioca per sé, siete un medium, chiamato a risolvere il caso, non dovete collaborare con gli altri, nella modalità normale, dovete pensare voi a risolvere il caso, ed è veramente molto molto carino, è divertentissimo. In conclusione ragazzi, come se ne vince dalla descrizione, dalla spiegazione veloce che vi ho fatto, è un gioco veramente per tutti, e questo secondo me, è il classico board game che vince, perché il gioco da tavolo, ce ne sono tante, vi parla uno che è fissato di Deep Madness, però è difficile intavolarlo, perché è un gioco di nicchia, poi molto, no complicato, però complesso come meccaniche, ed è un gioco che da mettere al tavolo, ci possiamo giocare io e mia moglie, e nemmeno ne va matta, ci possiamo giocare io e il mio amico e il collaboratore Pippo, però sono giochi che devi cercare le persone giuste, o ad esempio un Nemesis, mentre invece giochi tipo Barrage, o giochi anche tipo Paranormal Detectives, dove li metti, li metti e fai giocare, perché è un gioco divertente, che fai serata, secondo me non c'è nessuno, che rifiuterebbe una partita a un gioco del genere, perché è veloce, è immediata, è carino ed è divertente, capito, e magari ti fai anche delle risate con gli amici, è come Dixit, non c'è mai stata una volta, che abbiamo tirato fuori Dixit, e qualcuno abbia detto, no non me la sento, io non gioco, erano sempre tutti al tavolino, quindi per me, passato a pieni voti, merita veramente tantissimo, è un gioco per gli amanti, delle investigazioni e del mistero, ma anche per chi vuole passare una serata, fra amici divertendosi, è il classico gioco da pizzata, e partitina, un'oretta e poi si va a letto, veramente veramente interessante, quindi passate a pieni voti, io ringrazio ancora una volta, la Cranio Creations, per avermi offerto una copia per la recensione, ragazzi, grazie davvero di cuore, se lo volete acquistare al miglior prezzo sul mercato, primo link in descrizione, in sovrimpressione, da Board Game Discount, nostro sito collaboratore e sponsor, che sta cambiando nome al momento, quindi andate direttamente sul sito, a vedere appunto tutte quante le novità, anche perché si sta trasformando, da negozio discount di Board Game, ma avere proprio community, sempre parlando appunto di giochi nerd, ma non solo inizieranno anche a vendere statuine, inizieranno anche a vendere action figure, inizieranno a vendere fumetti, diventa un negozio veramente nerd, a 360 gradi, comunque parlando appunto di Paranormal Detectives, se non lo trovate in lista, contattatevi, iscrivete al supporto, mail al supporto, ragazzi, non ce l'avete in lista, vengo dal canale di Coridan, se potrebbe avere Paranormal Detectives, faranno il possibile per farvelo avere, non solo lo potete pagare in tre rate, se non lo volete pagare insieme, però il prezzo è contenuto, ma ve lo faranno avere al miglior prezzo sul mercato, quindi andate a vedere, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete provato, e per me ragazzi, se vi posso dare un consiglio, questo è il classico gioco, che dove portate portate, fate divertire, lo mettete in tavola, divertimento assicurato, ciao, alla prossima!